E io domando a me, a chi, a chi cosa, può aiutare, può aiutarmi, ma io non mi appartacco, io non sono io, io non ci sono. Ma sei pazzo? No, perché ti ho spaventata? Ah certo che no, è che ero nel piede del monologo, non so come dire, ti sai che devo crescere, l'initi è giusta, e quando senti quella pienezza di spirito, di senso, in cui il teatro che in te si sta compiando, e quei momenti in cui le mie viscere si fondano con la mia testa, sono rari i momenti... Trovo che il metodo strasberghiano che gli attribuisci, gli ho una nota di radical scintismo, quindi per cui credo che il metodo stanislaschiano gli sia più conosciuto. Per una volta che cominciava a funzionare. Non funzionerà mai. Hai detto qualcosa? Chi, io? No. Chi, io? No. Non dovremmo discutere del bacio, o si dovremmo, Giorgio Caro? No, Melissa. Mel! Cosa? Mel, è il mio nome d'arte, Mel Costanzi. Sai, Melissa è una cosa... Da sciampista. Dopo lei. Già. Hai distrutto la quarta parete! Io mi rendo conto che tu non ne sei a conoscenza, ma è una cosa molto grave al teatro. Perfino gli antichi sono, se non sbaglio, i sumeri. Che sumeri! Mi chiedono che potessi al viaggio rompere la pole! La pole! Ben! La quarta parete... E questa è questa, non quella! La quarta parete... E questa è la quarta parete... E questa è la quarta parete... E questa è la quarta parete... Io... Yeah... We're gonna make you lose your mind... Everybody just have a good time... Grazie a tutti! Siamo! Grazie a Infinita! Grazie a tutti! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Oh no!